Il Circolo Bianchini si è distinto sempre per il valore e l'interesse dei suoi incontri. Incontri da un po' di tempo aperti anche a tutta la cittadinanza, quindi non solo ai soci, un bel regalo alla città. Un ciclo di sei incontri e anche questi molto molto interessanti. Il tema è quello del potere, l'ambiente e l'Europa. Tre temi in sé che verranno sviscerati da illustri relatori. Il potere, l'ambiente e l'Europa. L'Europa quale istituzione. Andrea, come è nata questa esigenza di parlare d'Europa in questo momento che è abbastanza critico? L'esigenza nasce proprio da una constatazione, da una percezione della complessità del presente. Tutti hanno davanti agli occhi quello che sta accadendo sullo scenario internazionale. Quello che rappresenta il nostro continente come patrimonio di idee, di riflessione, di arte, di spiritualità. Cerca di portare una visione la più ampia possibile sul passato e sul presente. Una visione anche di apertura a altre culture, con persone, studiosi di altissimo livello, come Roberto della Seta, che parlerà dell'ambiente d'Europa. Guido De Monticelli, che metterà in scena un recital sulla vita di Altiero Spinelli. Spinelli, Roberta De Monticelli, che porterà un dialogo sull'Europa. Poi Francesca Cenerini, la rappresentazione del potere nella Roma antica. Ivano Dionigi, il potere e la parola. E infine Giacomo Gabellini, che porta un discorso più in termini di geopolitica. Per quanto riguarda il rapporto con l'Europa, anche delle nostre comunità, vedi per esempio la direttiva Bolkestein, oppure le restrizioni per il mondo della pesca, che si fanno molto sentire. Quindi si può dire Europa madre e matrigna? Chiaramente contraddizioni sono mille, insomma, sono tante. Insomma, la storia è continuamente un processo in firi. Non si può pensare a un raggiungimento così alto, senza conflittualità, eccetera. L'importante è che ci sia, da parte delle istituzioni, ascolto. L'azione che noi cerchiamo di mettere in campo è proprio questa, cioè fare capire, fare riflettere, creare un dibattito su quelle che sono proprio le progettualità ideali, il sogno. Avete avuto anche un patrocinio importante, quello dell'Aicre. Sì, infatti questo è stato essenziale, perché il primo nostro interlocutore è stato il sindaco Massimo Seri, poi l'assessore Correfattori, che è anche una convinta europeista. Quindi l'Aicre poi ha aderito, ha anche sostenuto queste iniziative. Insomma, senza questo appoggio forse non saremmo riusciti a dare corpo al nostro progetto.